Il camper dei diritti in Umbria ha transitato nell'ultima parte del mese di febbraio. Abbiamo iniziato con una madrina d'eccezione, Rosy Bindi, la prima tappa è stata a Sisi e poi ha transitato il camper su tutta la regione. L'ultima delle tappe è stata a Terni. Abbiamo avuto il consenso e la partecipazione di moltissime persone. Il tema principale è stata l'autonomia differenziata e non solo, perché anche altri temi specifici della regione come il problema della sicurezza è stato al centro dei nostri passaggi. La partecipazione pur avendo avuto un periodo dal punto di vista climatico non favorevole è stata comunque una partecipazione molto attiva. Le persone ci hanno avvicinato per chiederci che cosa stava succedendo e quali erano le motivazioni per cui noi stavamo portando in tutte le piazze il tema dell'autonomia differenziata. Quindi molte persone hanno appreso da noi qual era il disegno di legge Calderoli, che molto spesso non avevano nemmeno idea che qualcosa fosse e che non conoscevano.